Mi parlava di un certo discorso che lei porta avanti Era colta e piuttosto impegnata su certi argomenti Era sempre precisa e diretta Ho passato una notte a ascoltarla Era perfetta ma non ha avuto voglia di toccarla Com'è corretta l'ideologia Com'è ignorante la simpatia Io purtroppo non riesco a istruire il mio tatto Non riesco a politicizzare l'olfatto Se insegno qualcosa al mio sesso diventa tiepido C'ho il corpo stupido Dopo un po' si è sdraiata sul letto e parlava di orgasmo Ho rivisto la nostra serata con molto entusiasmo Ma quel libro che lei mi ha citato Che mi indica dove toccarla Mi ha un po' bloccato Non ho più avuto voglia di scogliarla Non è corretto il suo intervento Com'è ignorante l'arrappamento Io magari non ho un'attrazione spontanea Ma insisto perché condivido la linea E' assurdo che io non mi senta voglioso e cupido C'ho il corpo stupido Lei voleva una cosa diversa dal solito incontro L'importante è conoscersi bene Guardarsi di dentro Eravamo d'accordo su tutto Sul politico e sul personale Ma c'era un blocco Nel senso del rapporto genitale Com'è corretta l'introspezione Com'è ignorante la mia erezione Oh 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 Grazie a tutti